Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist su divise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla? Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento. Ampiamente sveglio, non è come sembra, la scienza osservabile della vera vita. Alla ricerca del vero orizzonte, impara le prove osservabili degli effetti specchio. Le cose vengono nascoste in piena vista. Il livello è osservabile, ripetibile e in piena vista. E tu sei sveglio, completamente sveglio, osserva la linea specchio. Fermati, svegliati. È un fatto, non una teoria. Vedi quello che vedo? È l'effetto specchio che causa il taglio in basso degli oggetti. È un problema di visibilità. Studia gli effetti specchio. Hai trovato la curvatura? La visibilità dimostra l'acqua piana. Sei pronto? Insieme possiamo imparare la verità. La conoscenza è tutto quanto. Chiaro e semplice come le osservazioni della Terra. Sei completamente sveglio? Vedi quello che vedo? Salve. Sto filmando da Bayport Park da tantissimo tempo e so che quel punto là in fondo, quel puntile a forma triangolare, è un punto di riferimento a mezza strada e si trova a 2,7 km da me. Sto filmando, come dicevo, da Bayport, dal muretto di cinta, sopra, con la fotocamera, sopra un tavolino da picnic. Non dovrei nemmeno vedere la base del puntile in legno, ma in questo giorno particolare riesco a vederlo. Anche se è veramente molto distorto. Ma osservate cosa succede a questa imbarcazione. una volta che passa a questo punto di riferimento, come l'ho chiamato prima, il riferimento di mezza strada. Ma non interessa pensare alla distanza di 2,7 km o 2,4 km, perché non è importante. L'ho già mostrato in altri video dove si riesce a vedere bene gli altri puntili di Bayport, ma in questa giornata non si può. Ma osservate cosa succede quando questa imbarcazione va oltre. Inizia a distorcere, inizia ad affondare, o meglio, sembra affondare, ma non c'è alcuna curvatura là. Non può esserci la curvatura. Pertanto, se succede questo effetto con una imbarcazione, che non è nemmeno a 3 km di distanza, allora cosa può succedere al Sole? E questa è una bella domanda, perché vediamo una imbarcazione che svanisce già a 3 km di distanza da dove mi trovo e dove riesco a seguire con facilità quell'imbarcazione oltre il pontile di Bayport, senza alcun problema. Ma riusciamo a vedere, quando l'imbarcazione si mette diritta, riusciamo ancora a vedere le persone sopra e la parte bassa svanire. Ma la parte sopra si alza, come sempre. è l'effetto specchio, perché l'imbarcazione non può andare giù o inclinarsi. Ma hai visto questo? Non c'è nulla da dire. I credenti del globo dicono questo, ma la parte bassa svanisce sempre prima. Si tratta di punto di fuga, di prospettiva. La parte sotto svanisce sempre prima. Ma su questo canale c'è un'enorme quantità per imparare la vera prospettiva. Ma diamo un'occhiata a questo filmato. Uno dei tanti, uno dei molti che ho fatto durante il tramonto, o meglio, del sole che si allontana, come si sa, raggiunge il punto di convergenza dove tutto ciò che si trova oltre quella convergenza nessuno è più in grado di vedere niente. Ma potete vedere come il sole inizia a distorcere man mano che si abbassa. Il filmato è velocizzato, va al doppio. Poi, ad un certo punto, lo riporterò alla velocità normale. Osservate come la parte bassa del sole inizia a cambiare forma continua a cambiare. Vedete che distorce e non è più perfettamente rotondo. Si tratta solo di distorsione. Se è tutto così distorto, quanto può essere grande il sole? Io ho applicato moltissimi filtri e in qualcuno si vede che rimpicciolisce rispetto a quello che vedete qui. Ma osservate mentre si accosta all'orizzonte come si allunga in basso, si allunga in giù e si vede il riflesso oltre il limite dell'orizzonte. Qual è il vero orizzonte nella realtà? Potrei pensare che è ancora più alto di questo ma quello che vediamo qui è un effetto che porta letteralmente gli oggetti ad apparire così dove affondano come abbiamo visto nell'imbarcazione. Quando osservate il tramonto del sole ingrandite zoomando con la fotocamera e vedrete ciò che ad occhio nudo non potete vedere è una cosa diversa vi fornisce l'apparenza corretta di qualcosa che sembra un affondamento o un restringimento dentro una specie di riflesso e possiamo vedere anche una nuvola che passa attraverso il sole si vede sia la parte alta che la parte bassa della nuvola e la stessa nuvola si riflette nella parte sottostante così con più va lontano svanisce in questo effetto specchio e questo è come appare l'effetto è quello di raggiungere il punto di convergenza dove diventa sempre più piccolo oltre a distorcere ma tutti coloro che sono convinti di vivere su una palla diranno ma va là sparisce dietro la curvatura no non è così perché non riuscireste a vedere questa distorsione il video è a velocità normale e conclude questa presentazione dove non si vede alcuna curvatura dov'è la curvatura? è a velocità di vivere a velocità di vivere Grazie a tutti